musica io vorrei fare una colazione salata ma se non ci sei tu non so che cosa preparare no? e di solito si fanno anche le uova con la colazione salata però se mangi due uova tutti i giorni non è che sia il massimo della salute a meno che non mangi solo l'albume e poi col tuorlo che ci fai e c'è la carbonara perché la carbonara si fa solo col tuorlo no la friggi e fa l'impanatura in realtà volevi provare a fare il uovo quello... sai quando lo metti a seccare con la miscela di sale e zucchero? eh si? poi lo sciacche lo metti in forno a far asciugare bene 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 poi praticamente lo puoi grattugiare tipo non so sul toast piuttosto che sulla pasta lo grattugi come se fosse formale ah 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 solo il tuorlo a mia mente ma il cuore lo prendiamo? iuri dice non infilate le cose in bocca mentre parlate non si capisce niente lo dico sempre un Santo anche a mano ma va bene dimmi che sei mangiato quelle ciascuna quello che ciascuna duro che è normale non cioccasuna bianca vero? e prendi i vaffer al cioccolato? eh ste? eh ah ah Mio fratello alle 1, 1 e mezza si alzava, prendeva i wester dal frigo e mangiava quelli. Madonna, ma non ce ne amate? Ma sì, mangiava anche come una betomiera. Eeeh, carpe che cresce, quel giorno c'è? Cosa c'è qua? Dove sono? 14. Cosa c'è questo ingrognato, eh, c'è un corrotto! Cazzo, mi sto per morire di te! Fili di puttana, ma rotto! Eh, eh, attenzione! Si è fermato, guardava per terra! Ma ha rotto il cartello, figlio della merda! No! Ti vende un buffer in culo! No, tesoro, quello l'ho fatto ieri! Ma lei deve essere in quarantena! Cosa fa? Cosa fa? Ma io sono rebel proprio! Ma di fatto il buffer si è messo! Eh, ma è mulicciato un po'! Non era proprio un buffer, è un bafferone, però! Ma non voglio i dettagli! Eh, ma anche lei fa le battute! E poi si aspetta delle risposte! Eh, ma lei si deve aspettare le risposte! Ma non può lanciare il salto e nasconderla a mano, lei, eh! Ecco! Non puntare il dito e poi lo nascondi! No, no, nel caso... Tu, quella storia che gli dai il dito... Quella storia che gli dai il dito e si prendono la mano si chiama fisting, sappiatelo! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP Ah, stai fare al corno da guerra! Abbiamo un n barico? Cioè, prega! Ah, giusto! Io non lo suono! Ieeeihi relaxing! Qua?! Ah ehm, questi! mi manca il quadro vado a vedere dietro si guarda nel di dietro adattamento avanzato adattamento avanzato arma smussata un adattamento smussata applicabile un'arma per aumentare il danno da impatto ok dammela subito visto che non è quello ho ucciso per molto meno mi dispiace deluderti ma non è quello che pensi allora io darei un premio questo ragazzo a yuri che ha messo fissing direttamente da wikipedia l'inserimento di una mano oppure due mani nell'orifizionale si rivolgono a volte si riesce ad inserire fino al comito ma dipende dall'inestattività e io fare notare voi avete mai visto quelle persone che hanno quel cerchio tatuato tipo avambraccio quello è il segno di dove sono arrivati alla madonna non è una cazzata è vero è senza quando c'è che ce l'hanno sul tutto e quindi io c'ho il tribale sul bicipite ma non è un problema no non è un tribale deve essere un cerchio proprio parte per lo sono il vai me sigla di una rosa stantana alman vada santa la madre a testa di donna di mente la caglia vando a un paolo la caglia per la caglia e corri alla capanna della spazza rosinbolare buonato buonato ma c'è scritto tra le prove soffio io l'ha scritto soffio io leggi no la bastardo adesso la catena di Andromeda è da sadomasochismo no è un'altra cosa è un video che mi aveva mandato ho già lasciato un regalio sul letto un altro no non a Michi allo scarso allo scarso cosa gli amè? aiuto aia chi è che ha messo? cosa gli amè? aia aia aiia Michi ah c'è il ca ah c'è ah 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 actually non sono pronti ma sempre no lasciamo i ritmi basta il degenero ahi soffia sediti sediti adesso tua mamma viene a vedere quello a cui stai giocando e vede cazzo che vivo ciao ci viene a giocare non è Archie che fa la cacca vado? sto caricando quanto lenta la sua playstation appena appena ho trovato il server sta chiavica ha cambiato qualcosa la madonna ma che cazzo scusate ma dai cosa è successo ma dai ma che schifo ho paura figa quello è il tampone per il cod 19 no 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 a parte che muori muori di sanguato ti pensi il sangue da tutto quanto li per riempirlo tutto si viene non ci ricorda non lo so provi cos'è ti viene anche a te pozione della dotazione no ti prego non mi dire che non dirmi che no l'ho presa maggiore carisma mi da e basta si radistica maggiore carisma aumenta di uno non mi da neanche sta grande cosa facciamo di ah ho sbagliato perché il carisma dipende dalla lunghezza della minchia cosa è sta cosa ovvio ovvio quando uno si presenta dalla mano non dà la minchia in mano che è diverso e ma un saluto del cazzo ecco poi dipende sempre che amici ciai che fai che ambienti frequenti ma poi è ancora più inquietato è fatto che si muova tutto oh mio dio come se fossero capelli c'è vento c'è vento porco due è vuoto dentro per muoversi così c'è vento incredibile venga così c'è più normale porco due chi l'hai data chi è che vuole ho messo giù il cialis volete un righello? io grazie dammelo a me eeeeeee dovete andare a pesca adesso vi accucciate in là che è andata a pesca date camera vostra no io non vedo dentro la fila no che cazzo è che vabbè lasciamo stare no vabbè con quale inquadratura attenzione si vede si vede chi è mi ricorda una cosa molto brutta vai nella tua stanza come nella mia stanza ah vedo si salve ma perchè? oh mio dio non si sta comodissimi qua sbattiglielo sui denti qualcuno faccia uno screen e glielo mandi ahahahahahahahahahahah chi ci pensa lei? uno screen, lo faccio la foto lo screen aspetta eeeeeeehhh aspetta devo trovarla a posizio perchè mi legge incosciente ok intanto che voi fate le cazzate io slordo no così perfetto così sulle mani non si giungono quelle palle eh la manda lo gruppo ma io mi coni ci fa fai cazzi anche qui si nicchi non ti gira ma perchè mi sono amati che condato mi arendo mi arendo cosa fa prega ma mi avete incastrato abbassarmi ma non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca. Via polizia. Fuck. Sì, ma questa non muore più. No, è già meno lì. Cosa fa? Adatto, adatto. Aspetta, tell me. Stai, sei un cre... Non ho queste due. Ma cosa che c'è? È morte! Putta la corruzione. Il cazzo è fuorato. Le due ragni giganti. I ragni giganti, almeno facciamo un po' di pulizia. C'è un paio di pp3 di mezzo. Non ci passo più, aiuto! È morire. Il cazzo è un cazzo e uno c'è. Il peggio è la corruzione. Vabbè, la corruzione... Cosa? È un'ecatombe incredibile qua. Sì, sì. C'è fatto una strage. È morto una iedi. È appena accasciato una iedi. Moltenuti, martedì. Vieni, vieni a pulire, pulire. A caso, domani, sì, la madonna. C'è niente. Andiamo a pulire tutto. Buongiorno, io direi che questa live, a caso, cazzeggio, cazzemazzi, direi che siamo... Siamo anche a posto. Direi che lo più dico. Ci sentiamo... Qualche dungeon strano... Qualche dungeon strano... Qualche dungeon strano...